Allora, cambia la stagione, le valli si crescevano prima del mare. E nel momento che spieghiamo, per andare in pesca, con i lavori. Per andare in pesca vengono aperte e le chiuse, durante l'ora della volta mariale. Bene, qua non siamo a Monza-Vicente, o in Bretagna, qua abbiamo un metro di mare al massimo. Non è neanche il tema, è sufficiente per generare dei correnti, che dal mare, il sabo interale, fino alle valli. Correnti pieno-frette, correnti più generale, correnti a differenze sanità, differenti caratteristiche fisiche. Per fare una breve, quando i pesci della valli sentono l'astrovaline che tratta, loro cominciano a montare con quello che ho detto. Perché nel giorno e l'anno pensate a un pilota automatico, pensate a un software, devi fare queste cose. Pesci cominciano a montare con i correnti, per uscire, per andare in mare. Vi ricordo che stiamo parlando di quantità di potenti, stiamo parlando di testa industriale. Il laboriero serve bloccare la città e concentrati negli spazi piccoli e triangolari, che a quali sono più comodamente racconti con le leclerate.